Oggi De Luca è stato alle 14 programmato presidente della regione Campania e non si è presentato, quindi non solo sarà sospeso ma era anche un assente sospeso. Siamo a ridicolo ma questa è tutta colpa del Partito Democratico che pur di non perdere le elezioni in Campania ricattate da De Luca nel fare un'altra lista hanno creato questo caos istituzionale in una regione che proprio di questo non ne aveva bisogno. Sono gli interessi del partito avanti agli interessi del Paese. Grazie.